Eccoci qui, lo scontro con Ratto continua nella serie Let's Play 4 di Stronghold Crusader 2. C'è bisogno di armi, Sire. Un messaggio dal Ratto. Che sta succedendo alla nostra nobile famiglia? Un messaggio dal Ratto. Prepara il mio cavallo per la partenza. Solo una sensibile precauzione, penso. Un messaggio dal Ratto. Un messaggio dal Ratto. C'è bisogno di armi, Sire. Le truppe del Ratto stanno attaccando! In attesa di comandi. Sì, signore. Formate una colonna, uomini! Pronto, signore. Uomini armati pronti? Signore, uccidenteli, uomini! Non c'è problema, signore. Ordini. Uccideteli, uomini! Mio lord. Chiudete le righe! C'è bisogno di popolani, Sire. Un messaggio dal Ratto. Un messaggio dal Ratto. Un messaggio dal Rican. Un messaggio dal ratto. Che sta succedendo alla nostra nobile famiglia? C'è bisogno di nuove reclute, Sir. Pronto, signore. Qual è il piano? Vostra grazia? Un messaggio dal ratto. Prepara il mio cavallo per la partenza. Solo una sensibile precauzione. Un messaggio dal ratto. Un messaggio dal ratto. Un messaggio dal ratto. Le truppe del ratto stanno attaccando. E per il let's play 4 è tutto. Vi rimando al prossimo video. E con la parte finale dello scontro con il ratto. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento ed iscrivervi al canale. Vi ringrazio a tutti e al prossimo video. Ciao!